Salve ragazzi, benvenuti alle barzellette del nostro amico Tom. Oggi Tom vi racconterà la barzelletta Pierino e l'aglio. Pierino incontra l'amico Gigetto e chiacchierando del più ed meno gli dice Voglio farti una confidenza, ho un segreto che nessuno conosce. Poi dopo una breve pausa Pierino gli sveglia il segreto Per stare sempre bene in salute senza malarsi mai io ogni giorno mangio un etto di aglio crudo E Gigetto che nel frattempo si era avvicinato a Pierino gli risponde tappandosi il naso Credimi Pierino, il tuo non è un segreto e si sente!